Buongiorno, tocca a me aprire questa giornata, io sono stata presidente dell'ADI, dell'Associazione per il disegno industriale e la prossima settimana a Torino ci sarà l'assemblea mondiale e assumerò questo nuovo incarico, sono già stata eletta due anni fa in Corea ma viene ufficializzata e entra in carica la prossima settimana. In Italia dopo 60 anni questa associazione che si chiamava International Council of Society of Industrial Design ha cambiato nome, diventa World Design Organization e dall'83 non c'era più un congresso in Italia e devo dire Torino ha deciso di ospitare questo evento mondiale. Durante questa settimana la città che ospita questo evento in cui io entrerò in carica, avrò l'onore di avere questo nuovo impegno, la città ha organizzato un'intera settimana 60 eventi e 8 talks ufficiali, verranno persone da tutto il mondo e io sono il curatore scientifico anche della settimana, quindi mi immaginate il lavoro che si è concluso, che inizierà martedì ma che si è concluso con la presentazione della conferenza stampa. Quindi potrei stupirvi con effetti speciali, farvi vedere filmati, farvi vedere tutti i prodotti straordinari del design italiano che negli ultimi anni abbiamo selezionato dalle Ferrari alle Ducati, però forse sarebbe troppo facile in questo contesto parlarvi solo del design. Invece vorrei parlarvi, siccome mi è stato chiesto di parlare dei motivi che hanno portato al mio eventuale successo e poi di innovazione e tradizione, vorrei parlare un po' del biellese e di una storia di un topolino di campagna come me che parte da Biella e diventa presidente di questa associazione mondiale. Perché? Perché la storia può essere interessante. Adesso vi faccio vedere poche immagini di questa associazione mondiale che riunisce 40 paesi, 140 organizzazioni e che è distribuita nei sei continenti. Nell'assemblea che faremo si parlerà non più di prodotti ma del design impegnato per ottenere gli obiettivi, questi 17 goals delle Nazioni Unite che sono obiettivi di tutti, cioè il design che si impegna come l'architettura, come tutti ormai, nel costruire un mondo migliore. World Design Capital, World Design Impact Prize, World Design Talk, sono tutte attività che vengono svolte nel mondo e che appunto fino a ieri promuovevano il disegno industriale e da ora in avanti promuovono il progetto di un mondo migliore. Quindi anche all'interno dell'associazione c'è un gran dibattito e un grande cambiamento. Naturalmente io sono da un lato eccitata, dall'altro spaventata nell'intraprendere questo nuovo percorso, però vado avanti senza le immagini. Però sono biellese, sono nata a Biella, mio padre è di Vallemosso, mio padre mi ha sempre detto su cento persone che vogliono arrivare solo una arriva e poi naturalmente lo faceva per proteggermi e poi un'altra frase che mi ripeteva sempre era se è sempre fatto così perché bisogna cambiare. Invece io fin da piccola volevo essere quell'uno fra le cento persone che voleva arrivare e fin da piccola volevo sempre pensare le cose in modo diverso. Mi sdraiavo sul divano con la testa lì in giù e immaginavo di camminare sulla stanza al contrario trovando il lampadario che spuntava dal soffitto. Quindi c'è sempre stata la voglia di vedere le cose reali sotto un altro punto di vista e questo forse fa parte della creatività. Però per affermare questa mia personalità ho dovuto lottare parecchio perché i biellesi come mio padre sono con i piedi per terra, tutto ciò che a che vedere con la bellezza sono delle storie per cui dovevo vincere, naturalmente mio padre era molto più forte di me, quindi dovevo vincere questa resistenza per affermare le mie idee ma non ero sicura delle mie idee. Il mio nonno invece diciamo sotto sotto finanziava la mia crescita, mi comperava i libri, mi ha comprato di nascosto una macchina con cui andavo a Milano all'insaputa di mio padre a studiare, quindi diciamo che avevo un aiuto e invece mia madre poi mi ha sempre permesso di fare tutto ciò che volevo però ogni scaraffone è bello a mamma sua e quindi diciamo che questo non fa testo. Quindi ho dovuto vincere queste resistenze e poi ve la faccio breve, sono stata il primo presidente dell'ordine degli architetti per due mandati, sono stata presidente della delegazione dell'ADI a Torino, sono diventata presidente nazionale e adesso divento presidente nazionale, internazionale. Adesso hanno scoperto che c'è vita su Marte quindi sono preoccupata perché poi mi verrà il tarlo di fare presidente intergalattico, però Michelangelo Pistoletto che parlerà dopo è già andato nello spazio quindi un biellese che ci rappresenta, posso stare tranquillo. Per cui uno dice ma perché tutta questa voglia di presidenze? Sicuramente c'è dell'ambizione, sicuramente c'è la voglia di arrivare ma anche la voglia di poter partecipare con uno status sociale al cambiamento del mondo, cioè come architetto e come designer penso che al di là del lavoro professionale ci sia un impegno nei confronti della collettività, tu fai il tuo lavoro ma parallelamente devi anche attraverso il tuo lavoro avere un impegno nel modificare il mondo in modo migliore e il design mi ha dato la possibilità di sperimentare questo percorso. Nel 2008 appunto c'è stato il compasso d'oro a Torino per la prima volta, quei milanesi che si sconvolgevano alquanto e poi c'è stato il compasso d'oro a Roma. Ecco potrei farvi vedere questo l'orologio che ha il polso, la Lorenz dopo anni e anni ha vinto il compasso d'oro, macchine, barche, persone, eventi, mostre in Italia, nel mondo e attualmente nelle giurie. Il mio compito era non tanto selezionare i prodotti ma selezionare le persone che selezionavano l'innovazione e mentre in passato il design cercava di raggiungere un'armonia tra la forma e la funzione, cosa che oggi si dà per scontata, quello che si seleziona sempre più è l'innovazione che c'è in un prodotto. Può essere una piccola parte di innovazione, una grande parte e oggi il design si sta ampliando sempre di più a tutto il processo, cioè l'innovazione viene messa nell'intero processo e viene scandagliata, esaminata, fatta emergere anche tra coloro che producono dei semi lavorati o coloro che non raggiungono le luci della ribalta perché non hanno un prodotto finito e invece soprattutto in Italia lì c'è tantissima innovazione, quindi si tratta di andarla a scovare, valorizzarla e questa selezione compasso d'oro è uno degli strumenti per andare a selezionare tutto questo. Il designer inoltre oggi è un umanizzatore di tecnologie, cosa significa? Che questo dualismo tra il mondo scientifico e il mondo umanistico secondo me cambierà, non ci sarà più. Il designer è una persona che per la sua cultura, la sua preparazione deve, non è un artista, deve creare dei prodotti che siano vendibili, che piacciono le persone, che costino il giusto prezzo, quindi è una persona molto curiosa immersa dentro la realtà che però deve arrivare a usare la propria creatività per creare dei prodotti che siano reali e concreti e quindi deve fare uno sforzo di comprendere il mondo che ti circonda e oggi noi siamo all'interno di una nuova rivoluzione, c'è stata la rivoluzione industriale e noi ora siamo nella rivoluzione digitale. Come all'inizio della rivoluzione industriale le persone erano terrorizzate da questa nuova tecnologia che poi ha portato alla democratizzazione dei prodotti, la possibilità per tutti di avere tante cose belle. Oggi allo stesso tempo c'è la paura di questa tecnologia digitale perché anche i progetti di design, i prodotti si fanno sempre più immateriali ma il pericolo è che anche le decisioni nel prossimo futuro vengano prese dalle macchine. Quindi per esempio in questi giorni a Torino faremo un incontro che si intitolerà Design e democrazia proprio per andare a esplorare tutti quei punti dubbi e per aumentare la consapevolezza che dobbiamo avere di fronte a queste nuove tecnologie che peraltro ci permettono tante cose. Questi sono i miei lavori riassunti di design e di architettura e poi come dicevo prima il fatto di essere una donna. Nel 2008 io ho fatto questa mostra di come design non c'era la parola donna, il riferimento era Anna Castelli, moglie di Giulio Castelli, fondatore della Cartel che era nella mia commissione d'esame, il mio maestro era Zanuso. Quando lei è mancata i giornali non hanno parlato di lei come di Zanuso, di Magistretti, di Castiglioni. Perché? Perché era una donna. Allora io di mia iniziativa ho desiderato fare questa mostra in omaggio a lei che tra l'altro era stata presidente dell'Adi negli anni Sessanta. Quando si è conclusa la mostra, casualmente o forse non casualmente, come un passaggio di testimone, io sono diventata la seconda presidente dell'Adi. Qui la vedete, è stata l'unica donna presidente dell'Adi e in quel periodo sicuramente la cosa era ancora più eclatante. A livello mondiale io sarò la seconda presidente, di nuovo a seguito di una donna che l'ora stata negli anni Sessanta e sono felice di essere seconda e mi auguro che sia una serie di donne che possano affermarsi. Questo era il manifesto della mostra. La cosa divertente è che il logo sembra un punto croce, quindi è autoironico perché tutte le donne che venivano raccontate in questa mostra certamente non avevano tempo da dedicare al punto croce. Però l'idea che non partiva con un impulso di femminismo, quanto di valorizzazione del lavoro di tante donne che se non fossero state messe in evidenza da un'altra donna forse non sarebbero state riconosciute. E poi diciamo che questo, essendo diventata poi alla guida dell'Adi, mi ha permesso di girare il mondo, di promuovere mostre, competizioni, concorsi, di portare il compasso d'oro anche alla Commissione Europea durante il semestre italiano e poi a Bruxelles, a Lima, a Bogotà e in giro per il mondo. Che cosa quindi io voglio raccontarvi alla fine? Due cose. Uno, che come donna, ogni donna può ottenere gli stessi risultati di un uomo. Sembra una cosa scontata da dirsi. Però vi assicuro che io ho iniziato a fare l'architetto ormai moltissimi anni fa e per anni e anni nei cantieri sentivo dire buongiorno ingegnere, buongiorno geometra, prego avvocato. Ah certo signora, Stefania Plornel lo sa. E questo mi dava molto fastidio ma nella mia timidezza non osavo dire no, scusi, mi deve chiamare architetto. Adesso rido dentro di me quando succede, però quando mi chiamano signora mi dà comunque fastidio e la persona che mi chiama signora mi risulta antipatica e poi nel prosieguo del lavoro io diffido di questa persona finché non capisce che io sono un professionista e che come tale mi deve trattare. Quando un giorno nel 2007 sono stata in questa riunione a Copenaghen dove si decideva della segreteria dell'ICSI che poteva andare a Torino che poi Torino ha perso ma poi come premio di consolazione gli è stato dato l'incarico di World Design Capital e oggi ci ritroviamo a Torino dopo quasi dieci anni quindi è in grande soddisfazione e a quella serata una donna sudafricana che era seduta accanto a me mi disse purtroppo nel mondo ci sono un sacco di donne che sono il numero due nelle aziende, nelle associazioni fanno un lavoro disumano, si ammazzano di lavoro e poi però tutto viene raccolto dal numero uno che è solitamente un uomo e io ho detto ma che peccato però e poi però ho capito che ci sono delle paure, delle resistenze nelle donne nel dire a se stessi in primo luogo voglio essere il numero uno perché quando tu dici questo ho cominciato a dire ah ma devi pensare alla tua famiglia devi pensare ai tuoi figli sembri una persona egoista semplicemente perché vuoi essere una persona e quindi mi sono detta va bene io voglio essere il numero uno di una cosa molto piccola come può essere l'Adi certamente non è una cosa impressionante però ho capito che essendo una donna se volevo fare quello che volevo dovevo fare così assumendomi anche i rischi gli impegni di quello che ciò comporta perché molto spesso le donne fanno un'altra scelta che anche a volte è una scelta di comodo di mettersi in secondo piano ma essere protette in mille situazioni da qualcun altro quindi diciamo che il passaggio duro è dirlo a se stessi io mi ricordo che l'ho scritto su un foglio dal momento che l'ho scritto con grande vergogna poi l'ho fatto ah vabbè qui siamo dal Presidente della Repubblica sono andata a rompere le scatole le istituzioni per far dare dei premi anche dall'Adi e non soltanto dall'università eccetera eccetera questo è il premio dei premi dell'innovazione al Quirinale prima l'Adi non c'era lì dentro la seconda cosa ultima cosa sono quasi alla fine del mio tempo invece che voglio quindi diciamo un messaggio per le donne di credere in se stesse e fare quello che vogliono assumendosi però tutti anche gli annessi e connessi ecco questa è un'immagine invece che è messa per farvi ridere questo è ciò che insegnano le bambine sarà Biancaneve arriva il principe con il cavallo bianco e poi invece uno si ritrova se lavora arrivare a casa la sera non potersi sedere a guardare la televisione come giustamente vorrebbe ma a fare anche il resto e questa è un'altra immagine che è divertente la mostro perché me l'ha regalato un uomo un professionista perché effettivamente quello che capita è poi questo e l'ultima cosa che dicevo volevo raccontarvi riguarda la bellezza in tutti questi anni io ho lottato con l'idea che la bellezza fosse un valore oggettivo ed economico mi ricordo quante volte ho parlato con imprenditori biellesi eccetera mi dicevano oppure con i sindaci quando promuovevo i concorsi di architettura mi dicevano architetto sì sì ma noi abbiamo altri problemi e anche adesso a Torino e ovunque devi sempre lottare con i fatti economici però ci sono infinite dimostrazioni di aziende che attraverso il design attraverso la bellezza sono diventate leader nel mondo l'Alessi l'Abbet l'Aminati e quindi la bellezza interpretata come forza poi se voi pensate alla chiesa come ha usato la bellezza per convincere delle sue idee dando un pugno nello stomaco attraverso lo stupore alle persone che entravano dentro a questi edifici oppure certamente la pubblicità che tutti voi vedete tutti i giorni che usa la bellezza in tutti i modi per raggiungere degli scopi commerciali ma assodato questo cioè che c'è un valore economico e per l'Italia questo è un messaggio importantissimo e ci sarà questa riunione il 13 ottobre che ho fortemente voluto su design e heritage per dare un messaggio alle istituzioni per promuovere il nostro paese ormai le persone non vengono più solo in Italia per il Made in Italy non ci conoscono solo per quello ma vengono qui per questo insieme di clima paesaggio beni artistici culturali moda design prodotto vino cibo tutto questo non è messo a sistema non fa un'economia ognuno di questi settori viaggia in modo separato e solo oggi che ho girato parecchio il mondo mi rendo conto dell'unicità del nostro paese di quanto questo potrebbe rappresentare in termini di economia di posti di lavoro per i giovani e anche per i non giovani ovviamente e poi infine la bellezza è anche un valore oggettivo è un mestiere lavorare con la bellezza cioè non è una questione di femminilità non è una questione di buon gusto non è una questione di essere creativi è proprio che è connaturata dentro di noi io vi assicuro che partecipo a giurie nel mondo dove ci sono persone che arrivano da culture completamente diverse dall'Africa dall'America dall'Australia e se dobbiamo scegliere fra 300 prodotti 10 o 1 siamo tutti immediatamente d'accordo e scegliamo la stessa cosa perché ci sono delle regole proprio anche fisiche connaturate dentro di noi che ci fanno percepire dei rapporti di armonia che ci sono nelle cose e quindi diciamo che a questo punto nel mio percorso mi sono sentita rassicurata dell'averlo intrapreso nonostante la mia biellesità ecco allora io vi lascio con questo c'era un'immagine precedente che era questa perché il mio lavoro di designer di architetto è un lavoro di team collettivo tutti pensano alle star ma il futuro non sarà più delle star sia il design che l'architettura sono ormai troppo complesse per cui bisognerà lavorare in team questo è difficile da capire per gli italiani che sono individualisti stiamo pagando per questo ed è difficile capire anche per i biellesi che sono ancora più individualisti però il mio è uno stimolo a uscire fuori dal buco cioè non possiamo stare nel nostro buco al caldo dobbiamo aprirci verso il mondo grazie 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 grazie